Bentornati sul canale sono italiano. Oggi con le ultime notizie come La struggente chiamata nella trasmissione mattutina di canale 5 di una testimone oculare della tragedia della marmolada Sulla marmolada si continua a cercare, con la speranza di trovare dei superstiti dopo che ieri un maxi blocco di ghiaccio si è staccato, travolgendo diverse persone in zona Bilancio tragico, che potrebbe divenire ancora più drammatico nelle prossime ore, infatti si teme che dei dispersi, circa una ventina, in pochi, o forse nessuno, potrebbero avercela fatta Il dramma è stato il tema portante della puntata di lunedì mattina di Morning News, canale 5, talk timonato da Simona Branchetti Durante la diretta la giornalista ha contatto una testimone oculare del disastro, Elisa Dalvit, la quale è stata protagonista di una chiamata straziante In più frangenti Branchetti si è ritrovata a far fronte a silenzi dolorosi, rotti soltanto da singhiozzi Nel talk, dove è intervenuto anche Mauro Corona, alpinista e scrittore noto televisivamente per le sue ospitate a cancelletto carta bianca, si è cercato di capire se la tragedia avrebbe potuto essere evitata oppure no Per Corona no, anche per gli altri ospiti un simile dramma non poteva essere previsto Chi ha visto da vicino la morte è stata Elisa Dalvit, donna che ieri era in cima alla marmolada, incordata con altre quattro persone La frana l'abbiamo vista da sopra, noi eravamo più in alto rispetto a dove si è staccato il ghiaccio, ha raccontato Dalvit con voce rotta ed in evidente stato emotivo sofferente Si è capito subito che la donna era ancora sotto shock per ciò che ha visto Ho nelle orecchie ancora quel rumore che non si può descrivere, lo stacco e le persone che volano Non si può parlare di questa cosa, è riuscita ad aggiungere Elisa che poi si è ammutolita, vinta da un pianto straziante Branchetti ha cercato di colmare il silenzio, capisco il suo dolore, immagino che abbia di fronte agli occhi quelle immagini terribili Altro silenzio struggente, rotto soltanto da qualche singhiorso La giornalista ha così di nuovo colmato il vuoto, quando avete sentito questo boato Elisa è riuscita a ritrovare un filo di voce ed ha proseguito nella sua agghiacciante testimonianza, c'erano persone che urlavano, via via Ma nulla si poteva più fare niente, altre lacrime lancinanti Branchetti ha provato, contatto, a infilarsi tra i singhiozzi dell'ospite chiedendole, cosa avete fatto? Siamo rimasti immobili, abbiamo pensato di chiamare i soccorsi e di scendere dall'altra fermata per non intralciare i soccorsi, è riuscita a dire Elisa, con tono sempre provato Inoltre ha aggiunto che al momento del crollo, sicuramente c'erano una trentina di persone, visivamente parlando Trattasi dei dispersi La testimone, nei confronti di quelle voci che hanno parlato di tragedia annunciata, ha voluto precisare alcune cose Non credo che tutti siamo incoscienti Le guide alpine non credo siano incoscienti Ieri c'era una guida alpina con il figlio di 9 anni Quel papà è un papà d'oro che non porta a morire suo figlio, ha sottolineato per poi lasciarsi andare di nuovo al pianto Certo, non si avventurerebbe mai con suo figlio se pensasse che ci sia qualcosa che potrebbe metterlo in pericolo Su questo le do ragione Anche voi non credevate che che potesse succedere un cosa simile, ha aggiunto Branchetti Altro silenzio, altre lacrime Grazie Elisa Intanto, se vuole resti con noi, ha concluso la conduttrice Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Ciao